PD, ecco la lista dei consiglieri e il PDL apre a Bernardini. Da Tripoli a Bologna, la crisi libica tra rischio terrorismo e ripercussioni sull'economia. Oggi giornata mondiale dell'acqua, a Bologna si paga cara. Calcio, divaio verso la firma, pronti due anni di contratto. Benvenuti al Tg della Stefani, lo avete sentito dai titoli. Sono giorni caldi per la politica bolognese che si prepara alle elezioni. Il PD presenta la lista dei suoi consiglieri comunali, mentre è sempre più probabile che il PDL si affidi a Manes Bernardini. I dettagli nel servizio di Vittorio Morisco e Daniele Boltin. Una lista federalista che punta molto sull'arradicamento territoriale. Così il segretario provinciale del PD, Raffaele Donini, descrive i candidati che saranno presentati per le elezioni del Consiglio Comunale. 36 personalità bolognesi, ciascuna delle quali con una competenza specifica, utile ad amministrare la città in tutte le sue forme. Donini inoltre sottolinea la provenienza dei candidati, che potranno creare un forte legame tra cittadini e politica. È una lista molto aperta alla società civile, in quanto gran parte delle proposte, più di un quarto della lista, sono comunque espressioni civiche. Ed è una lista fortemente radicata al territorio, perché abbiamo fatto scegliere direttamente le nostre assemblee di quartiere e i candidati in Consiglio Comunale. Il capolista, Maurizio Cevenini, ritiene che il partito abbia le carte giuste per amministrare la città e una vittoria sarebbe un'ottima chiusura di un anno molto difficile. L'unico dubbio, al momento, rimangono le eventuali dimissioni dal Consiglio regionale. Non esiste incompatibilità tra il consigliere regionale e il consigliere comunale. Fare il consigliere comunale non è come fare il sindaco della città, perché il sindaco è sostituibile. Un consigliere comunale subentra quello dopo. Tripoli prima di Bologna. Per questo l'investitura di Manes Bernardini, come candidato unico del centrodestra, non ha ancora avuto il crisma dell'ufficialità. Sembra una lenta eutanasia, ha commentato lapidario il coordinatore cittadino del PDL, Fabio Garagnani. Berlusconi troppo impegnato con la crisi libica per occuparsi di Palazzo d'Accursio. La colpa di questo ritardo è dei vertici nazionali, sbotta il coordinatore regionale azzurro, Filippo Berselli. L'ultima parola aspetta dunque al Cavaliere, soprattutto perché si rifavviva l'accordata dei berlusconiani, Berselli e Alberto Vecchi, che vorrebbero rinunciare al simbolo PDL e confluire nella lista civica di Aldovandi. Forte della sua posizione, il Carroccio formalizzerà giovedì le sue liste con il consigliere provinciale Lucia Bergonzoni a fare da apripista. L'escalation militare in Libia costringe Bologna a prendere precauzioni antiterrorismo. Sentiamo quali sono i luoghi sotto sorveglianza da Lorenzo Mantelli. Allarme in Libia anche a Bologna. L'allerto a terrorismo ha spinto il Viminale a diramare direttive sull'aumento dei controlli in tutta Italia e quindi anche nei punti sensibili della città. Segnalate come luoghi a rischio le strutture nevralgiche per il trasporto. Stazione ferroviaria e aeroporto. Al Marconi la polizia di frontiera intensificherà i controlli su passeggeri e bagagli. Saranno predisposti controlli eccezionali anche per la zona del centro e per le rappresentanze diplomatiche dei paesi che hanno aderito all'offensiva ONU. E poi ancora si vigilerà sulla sinagoga, la John Hopkins University e la polveriera di Marano di Castenaso. Per discutere queste misure di sicurezza, ieri in prefettura si è tenuto un summit con il prefetto Tranfaglia, il questore Stingone e i vertici dell'arma dei carabinieri. E la crisi libica si fa sentire anche nel settore economico. Confindustria teme aumenti nei costi delle materie prime e nel settore energia. I dettagli da Giovanni Gaudenzi. L'Emilia Romagna è in ripresa ma molto resta ancora da fare. Questa è la situazione economica della regione secondo i dati del Consuntivo 2010 presentati questa mattina da Union Camere e Confindustria. La Presidente della Confederazione degli Industriali Emiliano Romagnoli, Anna Maria Artoni, è preoccupata per i riflessi che le operazioni militari contro la Libia potrebbero provocare alle imprese. Gli effetti di quello che accade alle altre parti del mondo si ripercuotono in tutto il paese. Ovvio che, tra l'altro, proprio dal punto di vista economico con la Libia, l'Italia aveva dei rapporti molto importanti. Pensiamo soltanto al tema energia che già è un problema per le nostre imprese. Nel quarto trimestre del 2010 crescono la produzione, la domanda e il fatturato, ma gli imprenditori si lamentano per l'aumento dei costi delle materie prime. C'è purtroppo una grande minaccia che è quella dell'aumento delle materie prime che sta creando grande instabilità, grande preoccupazione e questo è un elemento che si sta tenendo ovviamente molto sotto controllo. Andrea Zanlari, presidente di Union Camera Emilia Romagna, denuncia la situazione di stallo sul terreno dell'occupazione. Se l'aumento dei disoccupati non si arresterà, la crisi non potrà dirsi finita. Siamo preoccupati per l'occupazione, c'è una previsione di un aumento della disoccupazione dello 0,4% nel 2011 e i dati sembrano confermarci questo. Uno studente di 26 anni, ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, si è gettato dal settimo piano della facoltà di matematica morendo sul colpo. Era originario della provincia di Treviso. Nessun messaggio è stato ritrovato per spiegare il gesto. Il ragazzo stava per laurearsi e aveva un rendimento buono. I carabinieri stanno indagando. Oggi è la giornata nazionale dell'acqua, ma da celebrare c'è poco. Sentiamo perché è da Elisa Lorenzini. L'Emilia Romagna ha la terza bolletta più cara d'Italia. Lo dice un'indagine svolta dall'osservatorio prezzi e tariferi cittadinanza attiva. Nel 2009 le tariffe in Italia sono aumentate in media del 6,7%, in regione di quasi il 5%. A pesare sono gli incrementi registrati in tutti i capoluoghi, a eccezione di Bologna, dove le bollette sarebbero addirittura in calo. I dati però si riferiscono al 2009 e quest'anno anche sotto le due torri ci saranno incrementi del 10%. Se ne è parlato poche settimane fa in provincia, a causa del calo dei consumi idrici le bollette vengono ritoccate al rialzo. Secondo cittadinanza attiva gli utenti sono insoddisfatti del servizio idrico. L'acqua ha un cattivo sapore, tanto che sono disposti a pagare 40 euro al mese per acquistare le minerali. Nella giornata mondiale dell'acqua l'ONU lancia l'allarme. Nel primo mondo crescono gli sprechi, l'oro blu è sempre più una risorsa strategica al centro di guerre e interessi delle multinazionali. La scarsità dell'acqua urbana, dice, è dovuta alla cattiva gestione e alla cattiva politica. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta sui writer che imbrattano i muri del centro, identificati già molti dei responsabili attraverso l'uso delle telecamere e i pedinamenti della polizia municipale. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. Calcio. Bologna oggi aspetta la firma di Capitan Divaio. Per lui pronti due anni di contratto. Il servizio di Gabriele Lippi. Domenica il gol al Genoa e fanno 18 in campionato. Oggi il rinnovo del contratto per altri due anni e fanno 5 in rosso-blu. Marco Divaio, bomber, capitano, anima e cuore del Bologna, ha deciso di fermarsi al Dallara. Nessuna grande nel suo futuro, nemmeno l'Inter, che sembrava pronta a ingaggiarlo già a gennaio. Ma solo il fallimento della società avrebbe potuto allontanare Super Marco dalla curva Andrea Costa. Sappiamo tutti com'è andata a finire. Il Bologna c'è ancora. E Divaio con lui. Per il film della sua straordinaria carriera. Ha scelto un finale in provincia da protagonista. Lui, che per diventarlo, ha dovuto lasciare la capitale. Chiuderà a Bologna. E magari, da Bologna, ripartirà per una nuova vita. dietro ad una scrivania. O sulla panchina delle giovanili rosso-blu. Perché ormai, Divaio e Bologna, quanto è più delle due torri. E un Dallara senza lui è semplicemente impensabile. E per questa edizione è tutto. A domani.